Bene, abbiamo visto appunto le immagini di Ciasetta-Levanto. Marco, cosa ne pensi di questo pareggio? Sulla carta un po' mi sorprende perché la Ciasetta chiaramente era la favorita alla vigilia, però anche in questo caso ci sta. Poi tu eri presente, quindi mi dici che Levanto comunque non ha demeritato, perciò anche la Ciasetta deve accettare questo pareggio. Fa parte del calcio, Levanto comunque è una squadra che sta rendersi pericolosa, insomma non è l'ultima arrivata, è una squadra di categoria da diversi anni. Quindi ciò non toglie che la Ciasetta stia in una posizione classifica assolutamente invidiabile, ancora in zona playoff. Quindi insomma sicuramente più che positivo finora il campionato per la squadra di Garbarino, restano 17 partite da giocare, quindi c'è tutta anche la possibilità per fare ancora meglio. Abbiamo parlato prima del gol di Siddi per il Levy, quindi una breve parentesi di mercato. E a proposito di mercato e di gol di nuovi arrivati, nella partita che si è disputata fra Cornia e Panchina, finita 2-2, vanno a segno proprio due nuovi arrivi. Sia per il Cornia sia per la Panchina e parlo appunto di Gastrini che segna una doppietta per quanto riguarda la squadra di Caperana. E invece Sansone, attaccante arrivato dal Moconesi per la squadra di Mister Zetti. Anche qui Marco mi viene da dire, domanda retorica, ma forse questo campionato potrà cambiare e riserverà qualche sorpresa visti i colpi di mercato? Ma in parte sì, anche se credo comunque non tantissimo, tutte le squadre stanno cercando di mettere qualche tassello in più, qualche rinforzo che ovviamente può cambiare un po' i valori in campo. Però mi sembra di capire che la classifica ora sia abbastanza delineata, divisa proprio in due gruppi e chiaramente chi farà l'innesso giusto potrà avvantaggiarsene anche molto. Tu hai fatto questa citazione qua, sicuramente è corretta. È chiaro che ti trovi un bomber che ti fa due gol a domenica e poi cambia tutto. Certo, tra l'altro ora aspettiamo la partita di sabato tra Leivese e Cornia, perché insomma il Cornia adesso sta facendo bene, quindi non voglio anticipare niente perché poi ne parliamo alla fine con i pronostici. Andiamo invece a leggere la classifica Marcatori, che vede sempre in testa 10 reti, Geniale della Cogornese, seguito a quota 8 reti da Esposito della Calvarese e Stornello del Sant'Ambrogio, a 7 reti Spano del San Lorenzo e Pelizza della Ciasetta, segue Carbone del Real Deva a quota 6 gol, a 5 reti abbiamo Capitani dell'Aurora, Cataldi del Moneglia, De Ferrari del Sant'Ambrogio, Ferreccio del Cornia, Lazzaretti del Sant'Ambrogio, Robbiano e Picciao della Cogornese, Lorenzini della Rapid e Casa Grande della Ciasetta. A 4 reti Lago Marsino della Calvarese, Canepa della Ciasetta, Monsellato del Levanto e D'Alto dell'Aurora, altri 8 giocatori a quota 3 reti. Andiamo insieme a leggere anche la 14esima giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Cogornese-Aurora, Entella-Calvarese, Leivese-Cornia, Levanto-Leivi, il derby delle gallerie che, come ci dicevano la settimana scorsa, Picardo e Pavan è il primo derby della storia, fra Moneglia e Real Deiva, Panchina-San Lorenzo, Rapid-Nozzare-Gocciassetta e Sant'Ambrogio-Borgo Rotondo. Bene, Marco, finalmente siamo arrivati nel momento dei pronostici, anche se per me è arrivato anche il temutissimo momento dell'apertura a busta. Io ti ho dato la mia busta che facciamo vedere. Eccola qua, la busta che tutti aspettano. Esatto, che abbiamo fatto firmare settimana scorsa, ci sono le tre firme, mie di Picardo e di Pavan. Ti chiedo di aprirla e di leggere il risultato che ho scritto. Quindi è il tuo pronostico di... È il mio pronostico di Real Deiva Calvarese. Io apro, eh. Io non dico niente. È sigillata, lo possiamo confermare? Assolutamente. Anche troppo sigillata. Per pochissimo, ora la faccio vedere, per pochissimo. Real Deiva 3, Calvarese 2. Proprio di un soffio, l'hai sbagliato, veramente di pochissimo. Bene, io chiedo scusa a mister Picardo che tra l'altro ho sentito dopo la partita, perché come mi dicono tutti, ho portato male. No, ma nel calcio non c'è questa scaramanzia, quindi vai tranquilla. Però, oltre ad aver sbagliato a dare come vittoriosa la squadra di Deiva, ho anche sbagliato completamente sul risultato, perché ho voluto rischiare. Parliamo delle due squadre con la migliore difesa del campionato. Io speravo, da una parte, che fosse una partita accesa, visto che comunque la pasta è in paio, anche se siamo solo a metà del campionato, era alta. Non ho assolutamente indovinato niente, però vorrei sottolineare che settimana scorsa i pronostici che abbiamo fatto, oltre alla busta, erano anche quelli della partita tra Borgorotondo e Entella e del derby di Levy. Quelli li ho azzeccati. Li ho azzeccati. Se volete andare a rivedere la puntata, li ho azzeccati tutti e due, quindi due su tre. Bene, andremo a rivedere la puntata. Bene, ora chiudiamo questa parentesi busta, perché penso che per un po' non la riproporrò. E parliamo invece di questa giornata che ci aspetta, questo weekend. Io ho scelto due partite, come al solito ne ho scelte. Ho scelto le due che mi sembravano più interessanti. Partirei subito da Rapid Nozargo-Ciassetta. Perché? Come abbiamo detto prima, sono due squadre che hanno pareggiato in questa tredicesima giornata. Quindi, zona play-off. Si giocano in una posizione di tutto rispetto. Si incontrano in un campo non facile, perché Santa Margherita, io credo che sia uno dei campi più difficili della seconda categoria. Ho intervistato Mirko Garbarino a fine partita, sabato contro Levato, e non mi sembrava assolutamente soddisfatto del risultato. Quindi, secondo me, può essere una partita molto interessante. Vuoi il mio pronostico? Sì, come finisce Marco? È difficile, è una partita da tripla, lo dico subito. Però vedo una partita ricca di gol, che potrebbe terminare in parità un 2-2 molto combattuto. Bene, io invece, visto che già ho fatto arrabbiare Mirko nelle interviste sabato, aggiungo anche un 1 secco per la Rapid, che secondo me si parta a casa di tre punti. Bene, poi mercoledì prossimo allora vedremo. L'altra partita inevitabile, anche se sicuramente i ragazzi del Deiva non saranno felici che io tiri fuori di nuovo la loro squadra, è il derby delle gallerie. Quindi, come finisce Moneglia, Real Deiva? Questa è anche molto, molto difficile. Molto difficile perché Moneglia è una situazione difficile, ha fatto degli innesti importanti, ma non è cambiata tanto la musica, mi sembra di capire. Real Deiva avrà una rabbia in corpo, non indifferente per la sconfitta di sabato scorso, anche qua per la tripla, ma 0-1, vincere il Deiva non è 0. Bene, io sono d'accordo con te, anche io penso che vincerà il Deiva per una serie di motivi, primo fra tutti il fatto che il Moneglia comunque non riesce a ingranare, mi sembra che la squadra di Mr. Vassalli sia decisamente in difficoltà. In ogni caso do la vittoria come pronostico al Deiva, anche perché spero di riuscire a farmi perdonare, e se ne sbaglio due di fila prometto che il Deiva non sarà fra i pronostici per almeno un mese, così almeno non rischiamo più. Marco, io ti ringrazio anche questa settimana per essere stato con noi. Grazie a te. Con voi appuntamento è sempre la settimana prossima, mercoledì per l'ultima puntata di questo 2011, che ormai siamo quasi alla fine anche del girone di andata. Io direi vi lascio con Emilio Garbarino per tutto Terza e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.